E in questa regione ha dimostrato, avendo un sacco, diciamo, di non arrendersi mai, ha dimostrato di essere sia un grande imprenditore e ha dimostrato anche di essere un grande politico. È stato per cercare di far crescere quello che è il gruppo italiano. Il gruppo è rimasto qui, è rimasto in campane, è rimasto fortemente radicato alle radici di questa terra, di questa terra, come diciamo, difficile, ma che dà delle possibilità enormi, sia come uomini, come persone che ti sono a fianco, che ti sono fedeli, che ti aiutano, che ti accompagnano in tutto il percorso della vita, sia come formazione, perché vincere qua ti aiuta, ti fa crescere, ti fa essere più forti, di continuare questa avventura dell'avventura. Grazie.